auto giù da un ponte miracolati due giovani a bordo dalla benzina al metano prezzi fuori controllo emergenza acqua si rilancia il progetto degli invasi il museo rossini ospita una mostra dedicata a milba dal little service alla vl la nuova avventura di lorenzo pizza buonasera cari telespettatrici e cari telespettatori di rossini tv per questa nuova edizione del rossini news telegiornale di mercoledì 9 di marzo che apriamo con un'altra notizia di un incidente stradale dopo la tragedia che vi abbiamo raccontato ieri in cui ha perso la vita il sedicenne marco ragnetti scontrandosi contro un camion sulla strada urbinate in prossimità di borgo santa maria quest'oggi c'è stato un altro incidente per fortuna con conseguenze molto meno gravi che ha coinvolto altri due ragazzi che si stavano recando a scuola erano le 8 di stamattina in località di torricella nel comune di frontone quando un 19enne alla guida di una fiat idea ha perso il controllo della vettura mentre attraversava un ponte sopra il torrente cinisco che le avrebbe dovuti portare a scuola pergola l'auto ha oltrepassato il guardrail facendo un assalto nel vuoto di circa 10 metri ma lasciando miracolosamente illesi il conducente e la sua amica di 18 anni che era sul lato del passeggero i due giovani non hanno mai perso conoscenza uscendo prima dal veicolo e poi chiamando i soccorsi e i genitori per chiedere aiuto sul posto è intervenuta l'ambulanza i vigili del fuoco di cagli un autogru dal comando di pesaro per recuperare il mezzo e carabinieri di pergola i due studenti sono stati salvati sicuramente dalla cintura di sicurezza e dall'attivazione dell'airbag riportando solamente qualche ferita in evidente stato di shock i due sono stati poi portati in ospedale urbino per ulteriori controlli e torniamo ora ad occuparci del rincaro dei prezzi del carburante un problema che da diverse settimane riguarda soprattutto diverse categorie che negli ultimi giorni ha toccato cifre record vediamo il primo servizio è un aumento che dura da mesi è un aumento del quale non si vede la fine il caro carburanti continua a stringere il suo cappio attorno al collo degli autotrasportatori dei cittadini comuni che utilizzano la macchina ma rischia di paralizzare tanti settori economici come detto quello dei camionisti quello dei rappresentanti quello di tante categorie che utilizzano i mezzi di trasporto con frequenza oggi ad esempio siamo al road drink stabilimento che eroga anche metano in strada del monte feltro non vedete il prezzo scritto nel pannello del metano ma effettivamente si tratta di 4 euro e 99 si sfiorano i 5 euro al chilo viene tenuta una sola pompa attiva per erogare un servizio ma molti rinunciano visto un quantitativo di prezzo davvero proibitivo non è differente la situazione per quello che riguarda benzina e gasolio gasolio che supra i 2 euro e 10 benzina che sfiora i 2 euro e 20 e così qui e così in tanti luoghi della città e gli aumenti a quanto pare non sono destinati a terminare ed è una situazione che a pochi distinguo in città cambiando zona stessi prezzi centesimo più centesimo meno stessa difficoltà nel rapportarsi ad una situazione che ha davvero pochi precedenti io sono 24 anni che faccio questo tipo di attività non ho mai assistito a una cosa del genere ma penso che ci siano eventi che spiegabili impensabili di conseguenza non ho un'idea di quale sia il domani noi abbiamo il nostro dovere di esporre i prezzi ogni giorno che ci comunicano dall'interno della compagnia o chiunque sia il prezzo è automaticamente alle nostre condizioni di due centesimi al litro siamo costretti ad aumentarlo per forza non riusciamo altrimenti a superire al pagamento delle fatture per forza di cose dobbiamo pagare aumentare quello che è la problematica è chiara per l'utenza ma non è da meno per i gestori per noi gestori in base alle vendite ma le vendite è un gatto che si morde la coda è semplicissimo nessuno più utilizza il mezzo giustamente per scopi che non servono il camionista invece è costretto pur di lavorare di dover pagare ma noi non sappiamo come poter aiutare perché il prezzo viene imposto dallo stato dalle compagnie da tutto il resto quindi il problema si riflette direttamente sull'utente sul consumatore e sul rincaro delle carburante sono diverse le figure politiche che nelle ultime ore stanno chiedendo pubblicamente un aiuto al governo draghi da quaroli a varotti in tanti stanno richiedendo interventi urgenti a sostegno delle imprese delle diverse categorie che stanno subendo gravissime conseguenze per l'aumento dei prezzi il presidente di confcommercio di marche nord amerigo varotti ha fatto notare come il trasporto valga il 7 per cento del pil del paese e coinvolga nel settore circa 800 mila lavoratori con il continuo aumento dei carburanti ha aggiunto varotti i prezzi salgono e si rischia seriamente che i camion resti non fermi per evitare perdite la conseguenza sarebbe il blocco del paese con mancate consegne scaffali vuoti nelle attività commerciali e un sistema produttivo che si ferma con l'export che potrebbe perdere mercati di riferimento un'altra problematica ma meno chiacchierata rispetto all'aumento energetico e del carburante quella dell'approvvigionamento idrico sul quale si è soffermato l'amministratore delegato di marche multiservizi mauro tv roli che ha spiegato l'importanza degli invasi artificiali vediamo stiamo vivendo oggi un contesto già difficile per tutta la problematica di rifornimento del costo dell'energia nel nostro paese e vorrei ricordare che quello che ci troviamo a gestire oggi a soffrire oggi sia come collettività singola e dei singoli e soprattutto le imprese con dei costi enormi e il risultato è il frutto delle nostre decisioni di oltre 30 anni e le conseguenze le stiamo pagando e credo che le pagheremo molto molto pesantemente anche dal punto di vista socio economico dei prossimi mesi perché le imprese non reggeranno questi costi quindi chiuderanno ci saranno anche dei problemi dal punto di vista sociale venendo l'acqua è ancora peggio perché al limite l'energia se non si ha si può comprare magari si paga tre volte tanto come stiamo facendo oggi però puoi comprarla l'acqua il giorno che ci mancherà non si compra nemmeno pagandola cento volte tanto perché nessuno te la può vendere noi viviamo in una provincia in cui l'approvvigionamento idrico io sono qui da vent'anni quest'anno il ventesimo anno una delle prime cose che mi disse l'allora sindaco di peso lo disse una criticità che abbiamo è l'approvvigionamento idrico tale era e tale purtroppo è rimasto noi soffriamo moltissimo perché abbiamo l'ottanta quattro per cento malcontato di acqua di superficie quindi fiumi che non sono fiumi sono a carattere torrentissimo sorgenti che sono estremamente e posti che sono superficiali e quindi risentono immediatamente troppo velocemente di quello che è l'andamento climatico della siccità proprio per questo abbiamo lanciato anno scorso e oggi si sta riprendendo il ragionamento di realizzare un invaso qualcuno dice che ne servirebbero due forse anche ragione perché sarà l'unico modo per affrontare in futuro l'approvvigionamento idrico tanto il cambiamento climatico che si sta già da anni manifestando avrà sempre il solito percorso il nostro è un territorio particolarmente bello ma anche a carattere collinare e quindi in assenza di nevicate le falde non si possono rimpinguare perché quando piove l'acqua velocemente arriva al mare quindi l'unico modo intelligente che l'uomo possa affrontare questa tematica è quella di realizzare un invaso per captare le piogge trattenerne e avere un uso importante vorrei ricordare che tutta la romagna ha risolto la proiezione la criticità dell'approvvigionamento idrico per tutta la costa nei periodi estivi realizzando ridracoli elemento invece che ci fa veramente preoccupare che ripeto la gente deve essere consapevole a conoscenza e che tutte le sorgenti delle aree interne in questi otto anni hanno avuto delle regressioni estremamente significative le principali hanno avuto una regressione di oltre il 40 per cento il che significa che in altri 10 12 anni quelle sorgenti tenderanno a sparire quindi bisogna ripeto abbandonare il populismo della strada o dei social e cominciare ad assumere delle scelte che devono essere responsabili e guardare quello che è lo sviluppo delle nuove generazioni perché altrimenti io lo dico in modo molto chiaro i nostri figli avranno tutto il dovere non il diritto di maledirci per quello che non abbiamo avuto il coraggio di fare e vi abbiamo parlato ieri del nuovo accordo sottoscritto dalla regione per favorire la continuità assistenziale dei medici un accordo importante ma non ancora sufficiente a riaprire i presidi di guardia medica che sono stati chiusi negli ultimi mesi vediamo un passo avanti ma non ancora sufficiente a garantire la riapertura dei presidi di guardia medica rimasti chiusi l'accordo sperimentale a garanzia della continuità assistenziale sottoscritto ieri dalla regione con la federazione dei medici di medicina generale e i sindacati di categoria consente innanzitutto quell'adeguamento di compensi auspicati utile ad arginare un'ulteriore fuga di camici bianchi verso altre declinazioni della professione attualmente la prestazione verifica rimunerata con 23 euro l'ora con questi accorgimenti si può arrivare anche a 40 euro l'ora ma quando i medici riescono a sostituire altre postazioni non coperte è un ritocco auspicato che si lega ad una rimodulazione del servizio calibrato su una mappatura dei territori e una implementazione delle centraline telefoniche utili al servizio ma non è ancora sufficiente ad avere quel quantitativo di personale utile a garantire la riapertura dei presidi di guardia medica che erano stati chiusi un accordo accolto con tiepido favore dai consiglieri regionali d'opposizione come marta ruggeri e andrea biancani che hanno sottolineato un primo passo avanti al cospetto di una strada ancora in salita per avere le riaperture sperate questo è sicuramente un primo passo importante noi ci auguriamo che in tempi brevi la regione riesca a ripristinare le guardie mediche dove attualmente sono sono chiuse ricordo che a pesaro a fano a gabicia valle foglia a cagli ma anche in altri comuni il servizio di guardia medica attualmente è sospeso e o è presente solamente nel corso del fine settimana e i cittadini se hanno bisogno di un consulto soprattutto durante le ore notturne sono costrette a rivolgersi attraverso un centralino telefonico alla guardia medica di urbino è un servizio che non può essere fatto solamente a livello telefonico e quindi noi riteniamo che sia importante ripristinarlo quanto prima attualmente i cittadini ovviamente non avendo questo servizio sono costretti a rivolgersi al punto soccorso andando come dire a rintasare un servizio che dove c'è già appunto soprattutto una carenza di medici ma non è sicuramente opportuno che per piccole come dire per piccoli problemi le persone si riversino al punto soccorso ma devono avere comunque una guardia medica a disposizione per poter avere un consulto per poter fare una visita e quindi per poter stare tranquilli e continuano i lavori per allungare la bicipolitana di pesaro le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono alla partenza delle cantiere che amplierà la rete di ciclabili cittadina in via del 900 zona celletta e dalla costa all'entroterra è finalmente partito anche l'atteso cantiere per la riapertura della strada della gola del furlo cantiere che si propone di riaprire entro l'estate l'importante strada chiusa da un anno e il 18 marzo dalle 9 alle 18 e 30 al poliambulatorio dell'ospedale san salvatore di pesaro gli specialisti urologi di marche nord saranno a disposizione per consulenze gratuite rivolte ai cittadini che desiderano conoscere più da vicino gli aspetti legati alla patologia del tumore alla prostata o che per la prima volta si approcciano ad un colloquio con lo specialista l'iniziativa colloquio con l'urologo rappresenterà una giornata interamente dedicata all'informazione e alla prevenzione di una patologia che costituisce il 19 per cento dei tumori diagnosticati nella popolazione maschile grande successo per la campagna benefica lanciata dalle farmacie comunali di pesaro e gabice mare per raccogliere prodotti farmaceutici e medicinali da inviare in ucraina per ogni prodotto acquistato dai cittadini in favore della popolazione ucraina uno identico è stato donato dalle farmacie comunali in sette giorni sono stati infatti donati 3412 prodotti per un valore di 29 mila euro e la settimana scorsa era partito al liceo mamiani una raccolta di un euro a studente da donare alle famiglie ucraine un piccolo gesto che nella giornata di oggi ha avuto un significante risultato è stato infatti donato il primo assegno di 1800 euro circa alla caritas diocesana che si occuperà dei fondi raccolti per distribuirli alla popolazione ucraina un gesto di solidarietà nato in collaborazione tra il liceo mamiani e la onlus gulliver che attraverso le parole del suo presidente fabio boccanera estende l'invito a partecipare a questa donazione anche tutti gli altri istituti studenteschi della città ed è passato quasi un anno dalla scomparsa di milva storica icona della musica e del teatro italiano alla quale da domenica il museo rossini di pesero dedica una mostra realizzata per la prima volta in italia vediamo il servizio dal 13 marzo al 27 marzo la rossa da rossini abbiamo voluto giocare appunto su questa su questa alliterazione milva icona di stile per un'arte che cura e la mostra che domenica 13 marzo le 17 si inaugurerà al museo nazionale rossini le parole del direttore dell'amat gilberto santini nella videoconferenza tenutasi questa mattina alzano il sipario su una mostra unica nel suo genere a quasi un anno dalla scomparsa di milva la folgorante carriera di un artista icona della musica e del teatro italiano rivive nei suoi abiti di scena messa in mostra al museo nazionale rossini 31 oggetti di scena che sono stati parte integrante dei messaggi interpretativi di milva realizzati da importanti stilisti come ferrè versace o armani dopo la parziale anteprima durante il festival di sanremo la mostra verrà inaugurata il 13 marzo le 17 a pesaro dove sarà fino al 27 marzo per poi concludere il suo percorso al teatro parenti di milano dove gli abiti saranno offerti all'asta da christis italia quindi la volontà di creare contaminazioni creare un diciamo uno scambio anche da questo punto di vista era già nella nell'indole museo potrebbero fare con una figura tra le più iconiche della musica italiana come come millo quindi una donna poi specialmente in questa questa settimana insomma della che origina dal 8 marzo ci fa molto piacere e penso che sarà un bellissimo divertimento per per i visitatori muoversi tra le sale dove siamo quasi in un contrapunto ci saranno i gli abiti di milva e alcuni abiti che hanno fatto anche la storia del del cinema festival al fianco di daniele vimini anche l'applauso alla mostra dell'assessore regionale alla cultura giorgia latini in visita a pesaro sono veramente contenta che iniziamo ad aprire delle stagioni importanti di inaugurazione di di mostre proprio per far vedere anche l'attivismo dei luoghi della cultura perché la nostra regione devo dire che è molto molto attiva abbiamo ben due capitali che sono state selezionate tra le prime dieci come capitali della cultura pesaro e ad ascoli e quindi devo dire che in termini culturali insomma ci facciamo valere come come territorio come come regione la mostra nasce grazie alla volontà e alla generosità della professoressa martina corgnati figlia dell'artista io dunque pensato che questi oggetti che questa memoria che queste testimonianze non fossero mie nel senso della proprietà privata ma che fossero di tutti che fossero di chi le ama di chi può farne buon uso e che gli stessi oggetti avessero in un certo senso diritto a una seconda vita oltre a mia madre è una persona anche chi l'ha conosciuta fra le persone collegate qui lo sanno molto riservata in un certo senso aveva vissuto una vita pubblica ma nel suo privato ammetteva pochissime presenze e quindi in realtà queste cose non sono state viste non sono state condivise io penso che ci sia un bisogno di sguardo anche su questi oggetti perché questi oggetti possano dare ancora alle generazioni che verranno con il ricavato dell'asta che seguirà la mostra si attiverà una rete di luoghi di cura per il miglioramento della qualità della vita di pazienti fragili attraverso il lavoro dell'associazione no profit qualia della professoressa gabriella bottini e di medicinema italia di fulvia salvi domenica alle 19 l'inaugurazione della mostra sarà seguita dall'omaggio di giovanni amodeo che alla chiesa della maddalena proporrà il recital io e la rossa e sono state confermate le voci degli ultimi giorni per quanto riguarda l'ingresso di lorenzo pizza nella società vl a chiarire questo passaggio è lo stesso presidente dell'ital service in questa intervista che ci ha rilasciato sentiamola lorenzo pizza esce dal silenzio e conferma tutto il presidente dell'ital service a giorni si incontrerà con la dirigenza vl e il consorzio pesaro basket per ufficializzare il suo ingresso nel sodalizio bianco rosso con una cospicua fetta di quote societarie a pesaro il basket e lo sport dominante uno sport che comunque a me è sempre piaciuto e c'è stato questo diciamo che l'operazione è stata facilitata dagli ottimi rapporti che ho sempre mantenuto con ario costi diciamo ad ori e quindi ecco ha sicuramente aiutato questo l'aver mantenuto rapporti sempre nel tempo continui costanti e quindi ecco siamo arrivati a questa diciamo conclusione adesso a breve dovremmo andare a siglare questo accordo e quindi lo vediamo nel lato più positivo di tutta di tutta la situazione insomma entrare alla vl non significa uscire dall'ital service ma è pacifico nel ridimensionamento in società e probabilmente impaventate infrastrutture come il nuovo palasport e il calcio 5 sicuramente è stata un'avventura importante sarà comunque una vettura importante perché non c'è assolutamente l'intenzione di lasciare il calcio 5 anzi anche perché abbiamo un settore giovanile molto florido composto da 250 bambini e ragazzi e quindi quello diciamo che il nostro orgoglio è l'orgoglio anche alla prima squadra e c'è stato diciamo ci sarà un ridimensionamento dovuto a un nuovo regolamento e non faccio commenti perché se no potrei dire cose non gradite alla divisione comunque un nuovo regolamento voluto alla divisione che declassa il numero degli stranieri quindi ci sarà un depotenziamento purtroppo di tutta la struttura proprio di prima squadra e calcio 5 e quindi ecco in questa fase così mi sono trovato anche a dare questa disponibilità al basket e come ho detto il calcio 5 per me mi ha insegnato tanto diciamo che mi ha fatto maturare da tutti i punti di vista perché mi ha dato un grosso insegnamento e speriamo di poter così ribaltare questa esperienza importante che mi sono fatta nel calcio 5 anche nel mondo del basket quindi come hai detto tu sono stato nel CDA e adesso entro con quest'altro ruolo che comunque è un ruolo importante però come ho detto cerchiamo cerco come ho sempre fatto in tutte le situazioni mie sia sportive che lavorative che societarie entrare in punta di piedi ecco non voglio assolutamente né destabilizzare né arrivare in maniera prepotente preponderante ma entro in punta di piedi ecco come un aiuto a una società che comunque ha una struttura già importante ben oleata che funziona perfettamente anni di tal service che nonostante la crescita esponenziale del movimento non hanno giocoforza costruito quella tradizione che è propria del basket pesarese c'è proprio una mentalità diciamo a pesaro no come si dice si vive proprio di pallacanestre di basket nel calcio 5 abbiamo fatto fatica ti dico purtroppo è questo cioè abbiamo cercato di spingere tantissimo abbiamo cercato di portare tanti spettatori delle nostre partite siamo abbiamo avuto anche dei risultati notevoli importanti che ci hanno dato grande soddisfazione l'esempio della finale giocata la prima finale giocata in casa con la questa pone c'erano presenti 2500 persone al palanino pizza quindi una presenza massiccia di pubblico però in linea generale come detto tu nel lungo termine diciamo che le soddisfazioni pensavamo di raccogliere più persone a vedere le partite di calcio 5 probabilmente come detto manca un pochino questa tradizione e qui invece la storia comunque l'ha fatto il basket e quindi è giusto in questa fase concentrarsi nel basket ecco e fare diciamo così ridare questo entusiasmo a a questa tifoseria a questi tifosi che comunque io sottolineo definito spettacolosi meravigliosi perché comunque dopo dieci anni diciamo tra voi volete di sofferenze perché purtroppo state sofferenze perché mancanza di budget mancanza di funghi quindi però e ha sempre continuato a seguire la squadra non l'ha mai lasciata e quindi sono veramente da da apprezzare da mirare e a proposito di lorenzo pizza altre due notizie di sport che riguardano sia la vl che l'ital service la squadra di calcio a 5 ieri è scesa in campo nel turno infrasettimanale interno contro il todis lido di ostia pareggiando per 1 a 1 i gol sono stati tutti nel secondo tempo con il pesarese de oliveira a pareggiare il vantaggio del laziale giorginio mentre la vl ha presentato questa sera la vitrifrigo arena il nuovo acquisto marex meyeris trentenne alla centro lettone già allenato da banking nazionale durante le qualificazioni mondiali il giocatore di 207 centimetri è arrivato in città reduce dall'esperienza in russia con il parma perm e con le notizie di sport si conclude questa nuova edizione di rossini news prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti di serata infatti questa sera alle ore 21 e 20 ci sarà la lo speciale televisivo dell'inaugurazione della nuova gestione delle conad di tavuglia ore 21 e 20 e a seguire alle ore 21 e 40 stasera ci sarà un altro programma dedicato alla confesercenti pesero urbino un approfondimento che vedrà in studio antonio astuti con alessandro ligurgo e poi un appuntamento di domani mattina in diretta alle ore 7 e 20 con buongiorno rossini la lettura dei principali quotidiani di pesero e dei comuni limitrofi con emanuela rossi replica alle ore 8 e 20 e 12 e 30 e poi nel pomeriggio alle 14 e alle 18 e con questo era veramente tutto io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di rossini tv